L'ufficialità in tarda mattinata Roberto Fusco è il candidato sindaco per brindisi di PD Movimento 5 Stelle, ora tocca a noi l'Istacon e a parte quella del sindaco di un'altra civica. Il fine ha giustificato i mezzi. Nel sunto machiavellico, che vale sempre e che vale di più in politica, la scelta del PD di fare un passo indietro sui nomi, i suoi, pur di chiudere l'accordo con i 5 Stelle, allargamento che consente di essere più forti ai nastri di partenza di una campagna elettorale che si prospetta almeno a quattro schieramenti. Il PD non ha voluto rischiare di commettere l'errore delle politiche, meglio far scegliere agli alleati il candidato sindaco che rischiare di consegnare la vittoria agli avversari su un piatto d'argento. Ora è un walzer di dubbi da sciogliere. Resta un mese e mezzo di lavoro, il 14 aprile la presentazione delle liste. Nel frattempo, cosa faranno gli assessori del PD, Brigante, Lettori e Pinto, dimissioni o no? E in caso di un passo indietro da parte loro, cosa faranno i colleghi di nomina esterna Taveri e Vitali e i consiglieri di maggioranza? Se ne discute in queste ore, perché l'imbarazzo è evidente. Imbarazzo non mi sembra il termine giusto. La politica deve essere super parte. Per la prosecuzione del progetto che abbiamo cominciato insieme alle altre forze politiche nel 2018, andava fatta sicuramente l'allargamento della coalizione al Movimento 5 Stelle, che ha fatto la richiesta esplicita di avere un proprio candidato. Il PD ha fatto un passo indietro, considerato il fatto che anche all'interno del PD c'erano persone che potevano tranquillamente essere disponibili a scendere in campo. È possibile ipotizzare che si dimettano assessori e consiglieri del Partito Democratico in blocco? In questo momento ci sono altre priorità. Grazie.